La storia del gatto della Befana. Un tempo i gatti erano tutti di grati. Solo uno era di colore nero, era quello della Befana e la accompagnava nei suoi lunghi viaggi. A cavallo della scopa vedeva luoghi meravigliosi, ma sempre dall'alto. Il micio ogni tanto si chiedeva com'era la vita degli umani. Quando il periodo dell'Epifania si concludeva lui viveva una specie di letargo e dormiva in attesa del 6 gennaio. Una notte nel suo viaggio insieme alla vecchina il gatto si sporse per vedere il mondo un po' più da vicino e il regalo volò via. Quando la Befana se ne accorse disse ma a questo bambino bisogna portare qualcosa, andrai tu. Così il gatto fu catapultato in un cammino e quando arrivò nel salone e il bambino lo vide rimase senza parole e fu felicissimo.